Ok, do la parola a Pietro Vangeli, segretario nazionale del partito De Carc. Allora, penso che questa assemblea sta andando nella direzione che abbiamo pensato, costruito da gennaio di quest'anno. Mi sembra che dappertutto la sensazione, la linea più definita è che per 70 anni la Costituzione è stata violata, aggirata e infangata, infangata in particolare con le guerre, con il sangue, con i crimini e penso che la sessione sui lavoratori, giustamente io sono d'accordo, noi dobbiamo parlare dei lavoratori perché c'è una base materiale della società, senza i lavoratori la società non esiste, tutti quelli che parlano di lavoro è perché vogliono confondere le acque, perché un principio basilare è che i lavoratori senza i padroni possono continuare a far andare le fabbriche, ma i padroni senza i lavoratori non li possono far andare avanti, né le fabbriche, né gli aerei, né i camion, questo è il principio del marxismo, questo lo dobbiamo dare a quel grande pensatore, Marx 1848, nel manifesto del Partito Comunista dice appunto proletari di tutto il mondo uniti perché voi siete il futuro della società. Quindi noi un'altra conclusione che possiamo tirare è che non c'è stato, non c'è un governo istituzionale, costituzionale, né a livello locale né a livello nazionale, a livello locale vediamo queste esperienze, le esperienze che sono qua, quelle anche che non ci sono e che dobbiamo andare a riprendere, sono quelle da cui partire per costruire una nuova governabilità del Paese, perché senza questa nuova governabilità che poggia appunto di un governo costituzionale non possiamo applicare la Costituzione. Noi possiamo fare esperimenti di applicazione, diritti, oggi penso che la questione degli scioperi che si sono proclamati è un aspetto decisivo e importante, sono scioperi politici, sia lo sciopero del 27 e del 10 di novembre, è vero, è l'inizio di un processo, dobbiamo anche qui creare aggregazione dal basso anche nel mondo sindacale, penso che questa è anche la domanda che voglio fare, quale passi nell'attuazione della Costituzione, quindi contro tutto i diritti calpestati dei lavoratori che voi avete giustamente illustrato e che milioni e milioni di famiglie e di lavoratori conoscono, intendiamo fare dal 27 al 10 di novembre per dare forza a questo movimento per l'attuazione della Costituzione dal basso. Grazie. 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 Grazie.